3 e mezzo sei pronto? vai ecco qua rilascio la pescata odierna fermo, bellino crapponcino secondo tranquillo seconda crapa altro bel pesce guarda qua bellissimo e arriva il boss the king 3 kg e mezzo bellissimo eccolo qua bravo, bello, caro vai, torna a casa Alessi è andato ave altro rilascio dopo che abbiamo perso una bella trota adesso ormai è buio quasi ultime passate un altro bel barbotto è entrato siamo vicino ai 3 kg questo siamo vicino ai 3 kg ok ok ok